L'impegno dell'Agenzia è chiaramente quello di riuscire sempre ad avere in commercio in Italia e disponibile per il cittadino i migliori farmaci, i più innovativi e nei tempi più rapidi. Detto questo diciamo anche che l'impegno vero è quello di riuscire ad avere un sistema sostenibile. Oggi esistono dei farmaci nuovi, eccezionali, ma che hanno dei prezzi che mettono a grande rischio il sistema sanitario. Quindi l'impegno vero è quello di trovare sistemi per riuscire a far sì che ciò che noi spendiamo oggi in innovazione possa trovare dei finanziamenti grazie a sistemi particolari di contratti nuovi con le aziende che li producono, da un lato, e di far sì che davvero il concetto di innovazione riesca a trovare un'applicazione che purtroppo per ora non è uguale in tutti i paesi d'Europa.